Musica Un piano organico di interventi su tutto il territorio regionale finalizzati alla salvaguardia dei diritti degli animali e all'inaspremento del regime sanzionatorio per chi li abbandona come spesso accade nel periodo estivo e quanto previsto dalla proposta di legge in consiglio regionale portata avanti dal consigliere della Lega Fabio Romito che ha scelto il canile Rifugio Adan Onlus in Viale Lindemann nella zona industriale di Bari per illustrare i contenuti della PDL per l'istituzione del garante regionale per i diritti degli animali La nostra PDL si pone alcuni obiettivi il primo è quello dell'istituzione del garante degli animali una figura necessaria che provvederà a raccogliere e a denunciare tutte le segnalazioni che saranno inoltrate all'ufficio del garante Altri obiettivi importanti sono quelli contenuti nella proposta di legge e appunto il primo è quello di raddoppiare tutte le sanzioni amministrative ed economiche per chi maltratta o abbandona animali Il secondo obiettivo è quello di sostenere economicamente attraverso uno stanziamento apposito da destinare ai comuni i rifugi che sono oggi gestiti esclusivamente grazie alla competenza dei volontari Il terzo obiettivo è quello di dare una mano anche a tutti i proprietari di animali d'affezione che per condizioni economiche disagiate non riescono a provvedere per esempio a spese improvvise sanitarie interventi chirurgici ovviamente tenendo presente dei requisiti che saranno disciplinati sia nella legge che nella successiva delibera di giunta Ci auguriamo che questa proposta possa arrivare quanto prima in consiglio regionale soprattutto che possa essere approvata da tutto il consiglio